Ben trovati amici di Trieste Caffè, il caldo ci ha pervaso, siamo una delle città contrassegnate con il bollino rosso, quindi il clima ottimale per il Triestino doc per la bronzatura perfetta. Quest'anno siamo alle prese con un'intensa ondata di caldo, tant'è che tantissime chiamate al 118 provengono da persone che svengono per il caldo. Ma quindi com'è che se la passa nei triestini? Se non c'è troppa mucillagine un bel tuffabarco la soluzione. Faccio fatica a sopravvivere. Molto molto male, ma ne abbiamo l'ultimo esame, riesce nemmeno più a studiare, quindi tremendo veramente. Il nuovo migliore amico è il ventilatore che mi sono presa ieri, quindi diciamo che da quello va un po' meglio, devastante. Ci sono dieci semplici regole da poter seguire per combattere il caldo. Le potete trovare sul sito del Ministero della Salute, ma intanto ve ne dico tre. Uno, uscire di casa nelle ore meno calde. Due, bere con regolarità. Tre, ridurre la temperatura corporea. Le altre sette le trovate in descrizione. E voi? Quali seguite? Scrivetecelo nei commenti!